Il Corriere dello Sport. La Roma piomba su Radamel Falcao. Secondo il Corriere dello Sport ci sarebbero stati dei contatti fra la Roma e Radamel Falcao. Il colombiano ha trascorso due stagioni in Premier League senza risultati incoraggianti e a fine stagione tornerà al Monaco. I tre grossi dubbi legati a Falcao sono il suo passaporto extracomunitario, i 7 milioni di ingaggio e la ripresa quasi nulla a due anni dall'infortunio. In caso partisse Zeko però, la Roma starebbe seriamente pensando al Tigre. www.pronosticonline.com Tutti i venerdì in esclusiva i pronostici del Mago Alberto. Inoltre, Elp Serie A, Elp Premier League, Elp Liga, Elp Bundesliga. Tutte le curiosità, le statistiche, i precedenti e i consigli dei nostri esperti partita per partita per passare alla cassa. Su pronosticonline.com trovate anche i consigli per il fantacalcio di Emiliano Donati. pronosticonline.com vi ricorda che scommettere è vietato ai minori di 18 anni. Scommettete sempre responsabilmente.